buongiorno a tutti dal vostro grande capità napoli benvenuti in questo nuovo video è sempre forza napoli nella buona e soprattutto nella cattiva sorte sesto giorno di ritiro a di mario per il napoli stanno allenando si stanno preparando bene in vista del debutto il 22 di agosto allo stadio diego armando maradona per la prima di campionato napoli venezia anche ovvio ci sarà la solta doppia seduta di allenamento la mattina alle 10 pomeriggio alle 5 e mezza oggi finalmente rientrano lozano e mertes faremo a vedere quando si potranno aggregare il gruppo più probabilmente sarà il primo sarà lozano forse per mertes ci vorrà per diciamo per giocare ancora una quarantina di giorni quindi oggi farà degli esami strumentali per essere ancora più sicuri lozano se ci sarà l'ok definitivo come l'ha avuto come l'ha fatto il suo paese segregerà già da oggi e cominciare a prepararsi in virtù del debutto del campionato il 22 appunto di agosto contro venezia ripeto lo sacco di armando maradona nell'ambito mercato e resta ideale il profilo di berghe forte centrocampista di nazionale norvegese ma l'accelerata ci sarà solo dopo le cessioni è un nome nuovo per la mediana c'è un giocatore veramente interessante a e bisceri dello young boys già definita la formula dell'affare è un giocatore veramente interessante e l'ultima arrivata appunto dalla svizzera si tracca del 24 anni miscela e bisce centrale dello young boys che accetterebbe anche il prestito economico di riscatto e queste sono le notizie che si hanno di oggi tra il napoli ritiro di fatto verano il ritiro castelli castelli sangue sia lozano sia mertens protesteranno le loro condizioni e queste sono le due novità di mercato nell'attesa nella speranza di sferrare il colpo dopo l'accessione di tuttino che porterà il napoli circa 6 7 milioni di euro più bonus più a più anche probabilmente qualche altra sessione staremo a vedere per riuscire finalmente a portare a napoli i giocatori che a me piace molto per la faccia sinistra emerson palmieri del celsi neocampione d'europa con la nostra grande nazionale mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale buon prossimo domenico di giornata da vostro grande capitano napoli sempre forza napoli ciao